buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee della cura allora oggi vi voglio dedicare questo video perché ho pensato bene di spiegare perché muoiono le nostre falenopsis perché muoiono allora diciamo innanzitutto che tutte le piante possono morire tutti gli organismi vivi possono morire però con le falenopsis c'è un discorso alla base molto importante queste sono piante che vengono prodotte a livello industriale in quantità veramente industriale considerate che ho visto nei video la quantità che ne venivano prodotte negli anni passati la quantità tipo un milione di piante al giorno quando vengono prodotte queste piante hanno un livello di industrializzazione all'interno cioè crescono in strutture in cui viene gestito tutto dalla luce all'acqua ai congimi vengono fatte fiorire esattamente il momento in cui voi quando poi le andrete a comprare avranno il fiore della giusta portata della giusta bellezza della giusta quantità con una selezione molto importante queste crescono addirittura con un micro chip all'interno quindi tutto gestito tecnologicamente quando escono alla produzione e arrivano sulle nostre case vengono nati in mano a noi che ha già il fatto che le passiamo dal micro chip alla coltivazione domestica ma già è un disastro un disastro perché i parametri che loro hanno fin dall'inizio finiscono gli diamo noi parametri luce congime umidità substrato e automaticamente diventa difficile poter gestire il tutto quindi è normale che in mano una persona che ha poca esperienza come potrei essere io chiunque di noi avere in mano una pianta che è gestita totalmente e diventa difficile la gestione addirittura della fioritura fa sì che questa pianta la falenopsis quando fiorisce fiorisce non quando vorrebbe fiorire lei ma quando è pronta per essere venduta quindi se ho bisogno che mi fiorisca domani fiorisce domani però in modo tale che la indurrò tanto per farla fiorire lo stress termico no se la portiamo per un periodo a 16 gradi qualunque fa l'enopsis ben curata fiorisce quindi quando arriva a casa nostra il problema principale che saremo non in grado di ripresentare riprodurre quelle condizioni tecnologiche in più abbiamo il problema del substrato stesso che subestrato compriamo il bark e il bark da problemi perché all'inizio il bar che si bagna poco il bar che appena è nuovo si bagna molto molto poco e poi quando passa il tempo che il bar che comincia arrivare ad un anno comincia a bagnarsi troppo quindi abbiamo la difficoltà della gestione oltre che della pianta stessa anche dei vari substrati ogni substrato già un pro e un contro il bar che lascia abbassare tantissimo ossigeno diciamo che sono piante pesite quindi il bar che essendo legno un tipo di corteccia di vino la pianta trova il suo benessere però il bar che ha i suoi problemi quindi si bagna poco all'inizio diventa troppo umido alla fine poi miscelato con altri prodotti creiamo delle altre sfaccettature quindi anche altri prodotti creano un mix la griperlite col bar che il bar che con lo sfagno e quindi diventa difficile per la persona che non ha una buona dimestichezza con questi prodotti poter garantire a loro una sopravvivenza a lungo poi varia anche l'ambiente di casa stessa un ambiente troppo umido poco umido questi sono i vari perché la pianta tende facilmente a morire non perché non siamo bravi noi ma perché è difficile riprodurre per loro le condizioni originali ecco che la necessità di miei video e di cercare di dimostrare come perlomeno un prodotto che dicono tutti essere il prodotto del futuro che sarebbe la fibra di cocco aiuta a mettere la pianta in una condizione che lì sta lì non viene toccata per anni riusciamo a garantire all'interno del vaso una buona umidità e poi cercheremo di stare attenti con le congimazioni affinché le congimazioni non siano eccessive per modale che poi verranno bruciate le radici stesse la pianta di per sé ne mette tante se vedete è un continuo crescere di radici un continuo crescere di di getti non è difficile insomma diciamo che quando ci viene detto che la pianta è molto robusta non ci dicono una buona bugia l'orchidea è una delle piante più robuste proprio perché riesce ad adattarsi a tutto questo stress che gli piomba sopra praticamente considerate solo mi faccio vedere una pianta una mosterea che ho salvato da un bidone dell'umido questa mosterea qui è un epifita chiaramente non ha le stesse radici della phalaenopsis la phalaenopsis ha delle radici particolari in cui già del velamen sono radici diverse e vedete sono radici un po' particolari però essendo un epifita anche la mostera questa pianta qua vive arrabbicata sugli alberi quindi ecco che il substrato diventa questo il concetto che volevo esprimere già il substrato diventa un ambiente in cui noi ricreiamo alla pianta l'umidità di cui ha bisogno chiaramente la mostera e le phalaenopsis non le potremo mettere come in natura su una pianta appoggiata però ricreeremo ecco dato che non possiamo metterla come epifita appoggiata su una pianta ricreeremo nel vaso la giusta umidità concetto nostro è solo quello quindi ecco perché nei video presenti dico quando diamo l'acqua poca giusto per mantenere l'umidità non è una pianta un sempre verde che noi dobbiamo dare acqua in quantità è solo mantenere quel micro è come se il vasetto fosse l'habitat che la pianta in natura un'altra cosa importante l'ultima l'orchidea ha praticamente un problema non deve prendere l'acqua alla base perché se prende l'acqua alla base della pianta muore non deve prendere l'acqua negli ascelle delle foglie perché muore e non deve prendere l'acqua all'interno ci sono tre fattori importanti faccio vedere anche in quel quindi all'interno della pianta non deve andare assolutamente acqua non deve andare acqua assolutamente tra una foglia un'ascella della foglia all'altra tanto meno l'acqua giù alla base perché la pianta praticamente muore ecco perché in natura queste si torceranno tutte quante da un lato vedete non ce n'ho una dritta ma le lascio stare così ho detto già in un altro video che ho dovuto legarle con questo filo di ferro perché sennò praticamente scendono giù ecco con questi tre video ho voluto un attimo fare una breve carrellata del perché muoiono come nella fibra di cocco stanno meglio questo perlomeno è la mia esperienza e come poi riesco a bagnarle bene e non avere problemi grazie di avermi seguito spero di fare cosa gradita il mondo delle farinopsis è un mondo mondo molto vario ci sono tantissimi video spero di poter fare cosa gradita di spiegarvi un po' queste cose affinché riusciamo a farle morire di meno grazie di avermi seguito al prossimo video buona giornata a tutti